Il governo ha scelto Illario per inaugurare la stagione turistica italiana, l'estate del definitivo ritorno alla normalità, sperano gli operatori del settore che a tre mezzo hanno incontrato il ministro del turismo Massimo Garavaglia e il presidente della regione Attilio Fontana. Bisogna superare la preoccupazione della pandemia e dimostrare ai turisti che in Italia si può venire in completa tranquillità, il messaggio lanciato da Fontana. Il Green Pass è fondamentale perché rassicura sia chi arriva nel nostro paese, sia noi che ci viviamo. Ripartire in sicurezza è sicuramente fondamentale, la prova è stata che in questi mesi la nostra gente ha sofferto ma i risultati si stanno vedendo. Adesso credo che ci siano le condizioni perché una grande stagione turistica possa ripartire, si stanno riducendo ulteriormente i divieti e quindi penso che ben vengano i turisti. Grazie al successo della campagna vaccinale quest'anno riapriamo ma non chiudiamo più, ha affermato il ministro Garavaglia che ha annunciato l'estensione del super bonus anche al settore turistico con uno sgravio dell'80%. Fortunatamente iniziano a tornare gli stranieri, questo è un dato fondamentale. L'anno scorso abbiamo perso 27 miliardi senza stranieri, adesso pian pianino stanno tornando. La seconda grande novità è che con il piano di vaccinazione che sta andando molto bene anche qua in Lombardia, quest'anno riapriamo ma non chiudiamo più.